180 kg di cocaina purissima nascosti in un carico di banane proveniente dal Sud America è il nuovo maxi sequestro della Guardia di Finanza di Livorno e dell'Agenzia delle Dogane in un gioco tra guardie e ladri con i narcos che va avanti da mesi e che anche questa volta ha visto il fermo del carico del valore di oltre 50 milioni di euro nel porto di Livorno, un porto che si conferma uno dei principali hub di ingresso per lo stupefacente in Toscana e in Italia. Non abbiamo l'arroganza di dire che fermiamo tutto ma abbiamo però i dati oggettivi che testimoniano che la nostra presenza e dell'Agenzia delle Dogane, il lavoro fatto in squadra insieme con loro porta i suoi frutti perché così a individuare un carico di 180 kg e togliere un qualcosa come occhio e croce 50 milioni di euro dal territorio è un corpo assestato importante che quindi evidenzia che il nostro lavoro è il frutto dei finanzieri e dei doganieri tutti i giorni, qui è presente ed è medicoloso. Oltre 150 panetti di cocaina imballati con il nastro isolante ed inseriti in fondo al contenitore dietro tonnellate di banane e scamotage che non è bastato a ingannare gli investigatori e il fiuto degli agenti cinofili. Noi facciamo il nostro e loro provano a superarci non posso entrare nei dettagli dei mezzi e metodi di rinverimento in questo caso si era occultata in un carico di banane ma non è sempre così facile perché dall'altra parte comunque non è che abbiamo gente che noi studiamo loro ma loro studiano i nostri metodi e quindi è un lavoro di fino realizzato tutti i giorni. E questo maxi sequestro segue di pochi mesi e poche settimane altri grandi sequestri fatti qua a Livorno questo dimostra ovviamente l'intensa attività delle forze dell'ordine ma dimostra anche che a Livorno c'è una struttura criminale importante e pronta ad accogliere questi carichi. Quando parliamo di carichi così ingenti è evidente che non abbiamo a che fare con lo spacciatore di strada ma abbiamo a che fare con consorterie criminali di livello nazionale e internazionale strutturate in determinati modi è evidente che c'è gente presente in loco è evidente che ci sono le nostre attività che cercano di snidarli e di arrestarli è evidente che un carico così non si traduce in un'attività che poi termina oggi stesso.